Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Gabbo97forever e oggi siamo qui con una cosa altamente epica. In poche parole, pochi giorni fa è stato il mio compleanno e alcuni miei amici mi hanno voluto fare un regalo. Quindi ringrazio subito Davide Zellattaro per questo regalo che mi hanno fatto, che è stato un pack Charizard. In poche parole mi hanno comprato, avete presente la confezione quella di Charizard X che andrò a spacchettare praticamente in un prossimo video e poi 6 bustine della collezione Turbo Crash. Abbiamo deciso così l'altro giorno in compagnia di sbustare questi 6 pacchetti assieme, però inizialmente non dovevamo farci un video. Anche se però ci siamo detti, ma si dai, piazziamo la fotocamera sul tavolino del salotto dove ci siamo messi a spacchettare e man mano vediamo se troviamo qualcosa. Nel caso in cui troviamo qualche carta importante magari mettiamo su video su YouTube. E così è stato. Perché infatti ho avuto la fortuna, spacchettando tra gli ultimi pacchetti, trovare un Gyarados X Shiny e un Amber X. Che veramente è stata una botta di fortuna assurda, perché su 6 pacchetti trovare due carte X è anche fortunata come cosa. Quindi ora vi lascerò praticamente al video che abbiamo registrato dove ho censurato parte dell'audio perché vi era la Taro che stava giocando sulla Playstation e io e Davidez che stavamo imprecando il signore per trovare qualcosa nei pacchetti. Anche perché l'opening all'inizio non è andato molto bene, trovavamo solamente carte rare. E niente, spero che il video vi piacerà, spero che faccia piacere anche a voi di vedere questo opening dove siamo riusciti a trovare due bellissime carte X. E mi raccomando, rimanete attivi sul canale perché arriverà anche il prossimo video dove apriremo il pack di Charizard X. E lì veramente si ha una probabilità di trovare carte molto ma molto importanti. Detto questo ragazzi, se il video vi piace vi invito a lasciare un like, lasciare un commento, di iscrivervi e di condividere anche il video. Detto questo, bella ragazzi! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.